mi chiamo bianca emily ho una sorpresa per te oh guarda siamo all'acqua park ciao ranocchia prima misuriamo l'altezza sei alta un metro esatto 100 centimetri si può correre e tuffarsi mettiamo emily nel passeggino spingila veloce siamo dentro qui ci sono degli scivoli altissimi e delle enormi piscine dobbiamo mettere i braccioli per emily e per bianca fa caldo emily vuole andare sullo scivolo di qua di qua qui ci sono le palline guarda ma dov'è emily ecco la andiamo sotto al fungo una salsiccia la usiamo per farci un salvagente emily si è allontanata di nuovo sta giocando con le palline oh che ciambelle grandi i bambini non possono scendere dagli scivoli grandi su queste ciambelle è pericoloso mamma non ti obbedisce emily ferma è pericoloso dove sei? dove sei emily? non ci si è allontana dagli adulti bisogna riportare le ciambelle dove si può nuotare in sicurezza spingo sono il capitano una caverna mamma non aver paura ti aspetta una sorpresa la corrente siamo in una caverna sott'acqua mamma ti stai divertendo? sì ecco una giacuzzi ecco una giacuzzi con i pesci a chi ha poi il pranzo anche emily prende i pesci con il retino emily questo scivolo è per te unicorno da dove sei venuto? fai fare un giro a bianca? grazie unicorno del giretto vuoi un po' d'acqua? bevi che divertimento all'acqua parto davvero emily adesso è l'ora della pappa e io faccio mangiare te bianca si è addormentata ci vediamo la prossima volta ciao ciao